Siamo con Anna Minigio, presidente del Judo Club Tolmezzo, alla quale chiediamo di fare un bilancio di questa annata. Per lei è stato anche un motivo di soddisfazione con il terzo D'Agni. Certo, è stato un anno con grandi risultati, sia con i bambini che con i più grandi. Grandi partecipazioni alle gare, grandissimi risultati, ne abbiamo parlato prima con i genitori. Molte partecipazioni alle gare, grandi risultati anche in termini di medaglia. Vediamo che abbiamo fatto 135 presenze in gara, con 110 medaglie solo per i più piccoli. E poi 64 gare, con 43 medaglie in giro per i più nuovi. Grandissimo anno a livello agonistico, ma anche a livello di partecipazione in palestra, perché non tutti fanno gare, però abbiamo molti bambini, molti grandi, che fanno Judo a livello maggioriano.